Ciao a tutti gli appassionati di calcio e benvenuti su top sport news. Oggi vi portiamo le ultime notizie sul Napoli e questa volta parliamo di un attaccante fenomenale e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal suo agente. Ma prima di tutto assicuratevi di essere iscritti al nostro canale, perché qui raccogliamo notizie quotidiane, tra cui trasferimenti, interviste esclusive e tutto ciò che riguarda il mondo del calcio. In mezzo a tutte le speculazioni sulla possibile partenza del nostro talentuoso giocatore durante la prossima finestra di trasferimento, la stampa recentemente ha gettato luce sul futuro di questa situazione. E l'agente del giocatore, Mamuka Iugeli, è venuto pubblicamente a chiarire tutti i dettagli. Prima di tutto, è importante sottolineare che Mamuka Iugeli è l'unica persona autorizzata a parlare del contratto di questo giocatore. E non ha altro che parole di elogio per il Napoli. Secondo Iugeli, Kvarazchelia è al Napoli da poco più di un anno e ha costruito un rapporto fantastico con la dirigenza del club. Per Kvarazchelia, Napoli è diventata una casa. Iugeli fa notare che non c'è mai stata alcuna discussione su un possibile trasferimento di Kvarazchelia altrove. Né il giocatore né il club hanno menzionato il rinnovo del contratto. Tuttavia, l'obiettivo di Kvarazchelia è chiaro, vuole conquistare nuovamente il titolo, brillare in Champions League e continuare a mostrare le sue migliori prestazioni in campo. L'agente Iugeli è estremamente elogiativo nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, affermando che è una persona fantastica, che ha fatto di tutto affinché Kvarazchelia potesse giocare ad alti livelli e ottenere le migliori performance in campo. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. E naturalmente, non dimenticate di lasciare un like a questo video, perché presto torneremo con altre novità. Alla prossima notizia!